Ciao a tutti e bentornati su Recenso, io sono Dario e questa è la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm prodotta dal mio studio di grafica OIRAD. Questa volta parleremo di un film di Netflix molto molto chiacchierato. È veramente così brutto Death Note? Iniziamo! Uscito nel 2017, Death Note, il quaderno della morte, è il primo adattamento americano di questa serie di 12 volumi dell'opera manga, quindi di un'opera nipponica, che in realtà tanti di noi conosciamo. Se non avete mai letto o visto l'anime di Death Note, mettete in pausa questo video e cliccate qui sopra a schermo o sotto nell'info box per recuperare la puntata nella quale vi parlo di questa bellissima opera. Poi tornate qui, noi andiamo un poco con ordine e iniziamo col dire che quando questo film venne messo online sulla piattaforma di Netflix, fu molto molto criticato, molto molto chiacchierato, proprio perché si discosta moltissimo da quella che è la qualità e la resa del manga e ovviamente delle sue trasposizioni in anime e anche in film. Perché ricordiamo che ci sono state più trasposizioni cinematografiche, sempre sul lato orientale. I commenti che ho letto e che alcuni mi sono stati anche riferiti sono stati fa schifo, hanno distrutto tutto o anche è inguardabile una vera oscenità? Ovviamente non sono questi commenti originali, i commenti veri e propri sono molto molto più coloriti. Io ho tenuto un poco la linea bassa, altrimenti questo video sarebbe stato bloccato da YouTube. Torno quindi alla domanda di apertura. Davvero fa così schifo questo film? I protagonisti di questa versione parallela rispetto alla versione nipponica sono Light Turner e Mia Sutton. Light è colui che anche in questa serie recupera il Death Note e sono appunto i paralleli di Light Yagami e di Misa Amane. La storia viene introdotta con una serie di scene che ci raccontano un po' con la società nella quale questa storia appunto gira, prende vita. Queste immagini ci raccontano quindi la vita di un scuola superiore o di un college nel quale, come appunto la maggior parte dei film e telefilm americani ci hanno insegnato a vedere, la società scolastica gira attorno allo sport e ovviamente al corrispettivo diciamo femminile che è il gruppo delle cheerleader. Ai confini e ai margini di questa realtà sportiva troviamo Light Turner. Questo ragazzo impegnato negli studi che seguendo appunto lo stereotipo americano non è particolarmente dotato nello sport ma appunto preferisce il lato mentale, il lato della formazione scolastica prettamente cervellotica mettiamola così. A differenza appunto del suo corrispettivo originale nipponico che è un vero e proprio cervellone, questo Light Turner in realtà si avvicina al Death Note con un solo scopo, una volta compreso per così dire come funziona. Nel testare in realtà la veridicità delle regole che vi sono all'inizio di questo diario, Light Turner decide di vendicare la morte della madre che è stata uccisa da un assassino che è rimasto impunito. Quindi sfrutta questo tentativo e uccide l'assassino della madre. Per cui lui si muove per vendetta, a differenza appunto del corrispettivo nipponico, il quale vede nel Death Note la possibilità di portare un minimo di giustizia nel mondo, la possibilità di buttare via, mettere la parola fine a tutte le ingiustizie, che siano assassini, ladri e quant'altro, politici corrotti. Quindi Turner non ha nulla a che fare con Yagami, non solo negli intenti e per lo scopo con il quale si avvicina quindi al Death Note, ma anche a livello psicologico. Il Yagami, che conosciamo dai 12 volumi, è un ragazzo appunto molto posato, molto calmo, riflessivo, che progetta piano piano, è un freddo calcolatore. Solo nello sviluppo della storia troviamo questa linea neurotica quasi folle del personaggio, che appunto esplode verso la fine. In questo qui, americano, abbiamo invece un personaggio che addirittura si lascia trasportare dai sentimenti, che è molto più impulsivo, molto meno calcolatore. L'unica parte nella quale appunto si vede un personaggio calcolatore è verso la fine, quando in pratica deve iniziare a pararsi un po' con la situazione. Dicevo, è legato sentimentalmente con Mia, a differenza di Yagami, che sfrutta Misa per il suo possesso di un altro Death Note. Quindi il personaggio di Mia, anche se allontana da quello di Misa, che è quasi ingenuo, molto più fresco e pulito come personaggio, mentre Mia è un personaggio molto più calcolatore, molto più nevrotico, quasi schizofrenico e pazzoide, mettiamola così. Per cui, in fin dei conti, il Light Yagami della serie originale a fumetti, si può ritrovare molto più facilmente come psicologia nel personaggio di Mia, e non nel suo corrispettivo maschile. Persino il personaggio di Ryuk, lo Shinigami, è completamente diverso. Non parlo del designer del personaggio, che è forse l'unica cosa bella e interessante da vedere sullo schermo. Parlo proprio di comportamento. Come vi ho detto anche nell'altra puntata, il personaggio del manga è un personaggio che, anche se resta sullo sfondo, è un personaggio che si vede fisionomicamente, è un personaggio che ha un certo peso sulle tavole e nelle vignette, ma resta sullo sfondo come intenti, come azione. Resta molto neutrale, perché è interessato alla psicologia degli esseri umani, a capire come e cosa combinano con un Death Note a disposizione. Qui invece, anche se il personaggio resta sullo sfondo, cambia il senso. Resta sullo sfondo come personaggio fisico, tant'è che il suo volto, le sue caratteristiche, quasi ci restano nascoste e misteriose per quasi tutto l'ora e quaranta di film, mentre gli intenti e le azioni sono molto più evidenti che nel corrispettivo di carta e inchiostro. Ed è un peccato perché William Defoe, che lo interpreta e lo doppia, ha già di per sé un viso interessante, che poi è stato modificato ovviamente col CGI, però avrei voluto vederlo in una parte un po' più approfondita, in una parte un po' più curata, ma se questo è quello che gli hanno dato a disposizione da interpretare, ci facciamo andare bene questo. Infine parlo del rovescio della medaglia di questi personaggi, che sono appunto Elle e Watari, il suo assistente. Sono entrambi insopportabili, entrambi si allontanano molto dai loro corrispettivi di inchiostro. In questi pochi giorni che ci vengono raccontati, la loro indagine, soprattutto ovviamente l'indagine di Elle, ci viene presentata come se fosse un'indagine solo sua, condivide ben poco con noi spettatori, cosa che invece nel manga non avviene, perché c'è la riflessione del personaggio. Tutto quello che sono le prove, tutte le speculazioni, tutti gli indizi, i pensieri, le riflessioni del personaggio ci vengono raccontate, le opinioni vengono poste sotto riflettori diversi. Qui invece ci viene presentato quasi a bruciare tutte le tappe, proprio perché invece di un lungo periodo ci viene raccontato un periodo molto più breve. Qui appunto tutte queste indagini, queste speculazioni vengono annullate e ci vengono quasi presentati di botto i resoconti finali di questa indagine, cosa appunto molto spiacevole, perché anche se nasce come una storia noir, è in realtà anche un giallo, proprio per il fatto che ci si mette in mezzo l'FBI e tutto il resto, prima ancora di Elle. Però appunto tutto questo è una nota, una sfumatura della narrazione di cui lo spettatore viene privato. Del vero Elle, questo personaggio mantiene solo le caratteristiche fisiche a livello di postura e la golosità. Tutto il resto viene a mancare e ovviamente quello che lo contraddistingue più di tutti gli aspetti che appunto caratterizzano questo personaggio cinematografico è la forte pazzia di questo personaggio e la forte impulsività rispetto al corrispettivo di carta. Come avviene per il manga, anche qui c'è una svolta interessante sul finale. Finale che appunto, non vi dico nulla, è forse la parte più densa di tutta la storia. Storie che appunto corre veloce proprio in prospettiva di questo finale, nel quale i personaggi sembrano più caratterizzati, vengono più indagati, viene più scoperto il loro modo di essere e di fare proprio nel finale stesso che non in tutta la storia. Il che per me è un grande peccato perché in un'ora e quaranta dedicare questa attenzione solo agli ultimi dieci minuti, quarto d'ora finale, è veramente sprecato. E questo appunto non fa altro che sottolineare il fatto che ormai le aziende cinematografiche americane sono più interessate ai soldi che a voler raccontare storie dense, cariche, non solo di pathos, ma anche proprio di un background, di uno spessore, di un sapore. Ora quindi ripeto la domanda iniziale. È davvero così schifoso questo film? Da un lato come se vince da quello che vi ho raccontato, decisamente sì, perché i personaggi perdono tutta la loro caratterizzazione, vengono in un certo senso snaturati di quello che è il loro imprinting che tra Oba e Obata gli viene dato. Perdono di fascino, perdono di consistenza, perdono di profondità, a differenza degli omonimi o comunque paralleli del mondo di carta e inchiostro. Forse proprio perché questi personaggi nei 12 volumi vengono caratterizzati e hanno una crescita, mentre in un'ora e quaranta di sviluppo narrativo questa crescita non la si denota proprio, risultano molto piatti. Dall'altro lato è interessante poter vedere come la società americana si possa accostare a un Death Note, perché appunto questa storia si sviluppa, mi sembra, a Seattle. Seppur interessante il modo nel quale la società viene influenzata da queste azioni di questo Kira, in fin dei conti non c'è un vero e proprio sviluppo, non c'è una dinamicità diversa rispetto appunto alla storia nipponica. Come vi dicevo all'inizio, la storia prende anche un sapore americano per l'introduzione del mondo scolastico, della società scolastica. Questo sapore americano si trasforma quasi in un sapore franco-canadese, quando la storia ci viene introdotta subito dopo queste immagini e la musica di queste immagini scolastiche si sovrappone a quella introduttiva di quella che possiamo definire una sigla, perché addirittura nel presentarci il nome Death Note a schermo intero, con questi colori fosforescenti e brillanti di impatto, comunque vogliate definirli, la musica di questa sigla si sovrappone a quella del film. E questo è un altro punto che mi fa pensare al fatto che la qualità si perde. È come se volessero trasmettere un sapore da serie tv in un film. Per questo faccio il raffronto tra cinema americano e produzioni franco-canadesi, perché di solito questo miscuglio di poca professionalità, questo sapore di forte arrangiamento, è tipico delle produzioni franco-canadesi che hanno poca attenzione per il dettaglio e quindi questo è uno dei punti che già ad apertura del film mi ha fatto venire un po' con lo schifo. Quindi il Death Note della Netflix fa davvero così schifo? Alla fine, come quasi tutto, come anche con Star Wars, possiamo dire che è il risultato complessivo a parlare, è il risultato complessivo a definire la qualità del prodotto in toto. Per cui, sì, Death Note messo così non ha proprio senso. Come al solito i presupposti per fare una storia decente c'erano perché tra Oba e Obata la qualità è uscita fuori, ma il risultato è quello di aver ottenuto dei personaggi piatti e insulsi che si muovono molto per sentore de panza e poco di cervello, se non appunto alla fine, come vi ho detto. A questo punto sarei stato molto più contento di vedere un Ryuk che dopo gli eventi di Tokyo si piazzava in America per vedere come invece si comportavano gli americani buttando sulla terra, lasciando cadere sulla terra questo Death Note. Sfruttare il background del passato per avvicinare questa nuova storia, quindi creare un qualcosa di completamente originale. Tant'è che indizi di un qualcosa passato vengono dati, e non vi dico altro, nella storia. Per cui io avrei premuto molto più su quello, calcato molto più su quello che non sul resto. Però ora voglio sapere voi cosa ne pensate. Ovviamente se siete tra quelli che hanno delle invettive contro questo film, fatemele sapere nei commenti qui sotto, ma ricordatevi di fare come me, di togliere molto colore dalle parole, altrimenti YouTube può penalizzare questo video e io sarò poi costretto a dover cancellare i commenti. Quindi fatelo con moderazione prima che debba intervenire io, ma fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se vi è piaciuto, cosa poteva essere fatto diversamente, e qual è il punto che più vi ha dato fastidio, è il punto che più vi ha dato sui nervi. Io vi ringrazio per la visualizzazione, per aver trascorso del tempo assieme. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, cliccando anche la campanella al lato, così da ricevere le notifiche di pubblicazione. Ringrazio anche i nuovi iscritti, stiamo piano piano crescendo, anche se le regole della monetizzazione stanno cambiando, di nuovo, e va bene. Io vi ricordo che sono su Facebook, Twitter e Google+, ma anche su Periscope, Instagram e Telegram. Non dimenticate anche di fare visita su www.retrattinocenso.it che è il sito ufficiale di Recenso. E vi ricordo che sono sempre reperibile per qualunque domanda, su ognuno di questi social. Io sono Dario, questa era Recenso, e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata. Sempre qui, sempre su Recenso, pronti a sfogliare nuove storie e a volare nel mondo della fantasia.